Ciao Ariete, bentornato. Oggi è domenica, 6 ottobre 2024, e ho delle previsioni speciali solo per te. Sei pronto a scoprire cosa ti riservano le stelle? Oroscopo Ariete. Tutti i nodi vengono al pettine. Domenica d'autunno, più tempo per crogiolarsi a letto e pensare. Vengono in mente situazioni del passato e anche vecchi amori, segreti di cuore, riportati alla luce dalla coppia Luna Venere nella casa numero 8, la più misteriosa dell'oroscopo, sollecitata da Marte cancerino e nostalgico. Aggiungeteci l'apporto dell'antico Dio del tempo in pesci, immobile in dodicesima casa e capirete perché oggi non si realizza nulla di concreto, non si pratica sport e nemmeno si va a fare compere, come piacerebbe a Urano, i conti non consentono. Varie faccende di casa da espletare, cucina da avviare, specie se stasera avete ospiti. Una donna bruna, la fidanzata, la moglie, una collega ben disposta nei nostri confronti. Una crisi in amore, in questo momento, può essere rimediata facilmente e con successo. C'è una certa benevolenza intorno a voi, cercate di apoprofittarne, non lasciate comunque nulla al d'intentato. Può essere anche una parente o un'amica della persona amata. È un periodo di turbamenti in cui non sapete farvi un'opinione sulle cose e sulle persone, a volte sembrate distratti ed è difficile concentrarvi. Mettete a punto un piano di riposo e di relax che vi saranno di grande aiuto. Forte immaginazione. Buon umore. Sarai estroverso, dolce, affettuoso. Cerca di riposarti il più possibile in questo giorno. Una lieta notizia se sei nato di domenica. Fate un passo alla volta, ci sono delle amicizie che non sono sincere e disfarsene vi porterà unicamente dei benefici. Fate un'attenta analisi e selezionate di conseguenza. Per chi cieca un lavoro si saranno almeno due nuove opportunità. Per chi lavora, se nato di lunedì, avrà molte soddisfazioni, mentre per i nati di domenica potrebbe esserci qualche avanzamento di carriera. Possibili guasti in elettrodomestici e in apparati radio-televisivi. Fate attenzione a fili scoperti e controllate bene il vostro impianto elettrico. Oggi verrai a conoscenza di un segreto che riguarda una tua conoscenza. Fai attenzione a non emettere giudizi frettolisi. Ottima giornata per guardarsi dentro e scoprire i lati del carattare da migliorare. Se siete in procinto di affrontare una convivenza, fatelo con entusiasmo e allontanate tutte le paure. Se il vostro partner vi crea qualche perplessità superatele parlando di questo con lui. Alcuni amici potrebbero farvi perdere la pazienza e potreste meditare un loro allontanamento, prima di prendere qualcunque decisione pensateci bene. È giunto il momento di dire basta alla sopraffazione del partner e far valere le proprie ragioni. I corpi celesti, in linea di massima, fanno di voi oggi un segno superbaciato dalla buona sorte con un discreto gruppo di pianeti che rema a vostro favore, tra cui Giove che vi gratifica dal segno d'aria dei gemelli e in special modo se siete nati nella terza decade. Domenica sonnolento sotto al profilo energetico, con Saturno appisolato in dodicesima a casa e il vostro astro guida Marte abbiocato in quadratura, si fa per dire perché quando si tratta di far rimostranze e litigare si sveglia subito, vivace come un grillo. Fantasie erotiche appagate a tarda serata con la complicità della luna in scorpione abbracciata a venere smaniosa di recuperare il pianeta rosso che dopo averla tiranneggiata per tutto il giorno si mostra finalmente pronto a darsi ai giochi d'amore. Amore ed eros. A tavola ci si becca, ma poi a letto su fa la pace. Il linguaggio dunque non è quello della parola, riguardo alla quale il malinteso oggi è di casa, ma della carezza, e che carezza, basta un tocco delle vostre dita magiche per incendiare pelle e cuore. A rendere tutto più intrigante il senso del segreto e del proibito, i giochi degli amanti in cantina o in soffitta. Vissuti personalmente o soltanto letti in uno dei cosiddetti romanzi osè, perché, si sa, tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare. Il duo Marte, Plutone in posizione disturbante, dal cancro e dal capricorno, può darvi oggi qualche difficoltà di entrare in completa sintonia con la persona amata, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 13 al 20 aprile. Riuscirete poi con il vostro garbo, la delicatezza, la forza di comprensione a limitare ogni danno di una delicata posizione astrale contraria. Lavoro e denaro Per fortuna è domenica, cosa che vi cautela, o almeno cautela la maggioranza, dall'impegno di alzarsi a forza e andare comunque al lavoro anche quando ci si sente spappolati o troppo nervosi per affrontare una clientela esigente. Finalmente, se non avete l'auto da portare a lavare, qualche riparazione urgente da effettuare in casa, o semplicemente una tonnellata di faccende domestiche e la spesa ancora da sbrigare, stamane potete prenderve la comoda, sonnecchiare sul cuscino della pigrizia facendo colazione a letto mentre le giucchiate il quotidiano. Almeno i titoli, se non gli articoli, perché il sonno torna facilmente a rimpossessarsi di voi. Vivace la serata dopo una cenetta sfiziosa, specie se condivisa con la vostra dolce metà, occhio ai fornelli però, se non siete cuochi provetti rischiati di bruciare le preparazioni e anche la punta delle dita. Forti del transito positivo di Giove in gemelli, voi arieti, che siete gli entusiasti dello zodiaco, mieterete successi facendo valere la vostra mirabile eloquenza, specie se appartenete alla terza decade se siete studenti. Qualche svogliatezza si avvertirà invece nell'area matematico, scientifica, attenzione a mantenere buono il livello di concentrazione in discipline che richiedono un'applicazione costante. Chi studia lettere e filosofia sosterrà esami a ripetizione, con poco sforzo. Ingegneria, economia, legge, fisica, chimica saranno invece, le facoltà in cui bisognerà brigare e lavorare di più, il duo Marte, Plutone continua a restare ostile per la terza decade. Ma gli sforzi messi in campo, anche se adesso si suderà, verranno comunque ampiamente ricompensati. Benessere. Stanchezza, ma considerando i numeri da circo che avete fatto la notte precedente nulla da stupirsi. Ci sta anche un bruciorino di stomaco, effetto dello stress settimanale o causato dai bagordi della serata precedente, con abbondanza di spezie e di rosso robusto. Dormiteci su, il sonno è un grande medico e i sogni splendidi infermieri. Per lei, conflitto aperto con mammino o la suocera, non avreste intenzione di attaccar briga, ma quando vi tirano dentro il sole arietino agisce e con forza. Per lui, pasticceri alle prime armi occhio al forno, che per gli inesperti può essere traditore. Di muzio o scevola ne basta uno, vietato ripetere l'esperimento. Colore delle emozioni, rosso fuoco. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 4, finanze, 6, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata.